Quando abbiamo deciso di smettere, sono stati diversi i fattori che hanno contribuito a questa scelta. I nostri macchinari erano ormai diventati tutti obsoleti. La nostra raccolta era esclusivamente fatta a mano. Non essendo molto grandi, puntavamo esclusivamente sulla qualità. Solo che in quegli anni c'era molta difficoltà nel reperire la mano d'opera. Tra le varie opzioni, la scelta è caduta sulle nocciole, visto che in Italia è partita una campagna a favore della coltivazione delle nocciole. Abbiamo partecipato al bando PSR 2014-2020 e abbiamo colto l'opportunità di prendere gli aiuti da parte della Comunità Europea che aiutava gli under 40 nel voler compiere un progetto che possiamo considerare rispetto all'investimento un aiuto del 50%. Noi abbiamo piantato nell'ottobre del 2017 e se le cose procedono bene nel settembre 2021 penso che avremo il primo raccolto.